Buongiorno a tutti, iniziamo oggi con i test termici sul mio nuovo forno solare, il Newton Solar Owen, chiamato così da mia moglie in onore di Isaac Newton e soprattutto in onore del prisma di Newton, in quanto appunto la camera termica è a forma di prisma a base triangolare. La temperatura a vuoto del forno attuale è 150 gradi centigradi come potete vedere, esattamente in linea con la temperatura del FT2 modificato con cui ho cucinato la pizza la settimana scorsa. Ora faremo il primo test termico nel senso che andrò a inserire all'interno della camera di cottura della carne e delle verdure che provengono dal frigorifero e hanno una temperatura di 6 gradi centigradi come potete vedere nel valore a sinistra del display. Andrò a inserire all'interno e vediamo come risponde il fornello. Vi aggiorno. Ecco qui tutto posizionato all'interno della terrina, copro il tutto con un coperchio nero ovviamente e con il suo coperchio di vetro che ovviamente scotta tantissimo. Ora andrò a inserire il tutto all'interno e poi vi aggiorno. A dopo. Molto bene, sono passati ora 45 minuti dall'inserimento della carne all'interno del Newton Solar Owen, andiamo a vedere a che temperatura siamo arrivati. Ovviamente il tutto è stato realizzato in maniera molto artigianale, è un prototipo, andrò a migliorarlo nel tempo e vediamo a che punto siamo arrivati. Apriamo il coperchio, apriamo anche il coperchio nero che ovviamente scossa tantissimo. temperatura interna attuale 90 gradi centigradi e la carne però risulta calda e cotta. Era già cotta il riscaldamento. Ottimo! Lasciamo altri 5 minuti e poi vediamo cosa succede. Molto bene, ecco qua, sono passati ora 10 minuti e il tutto si presenta a temperatura stabile 90 gradi centigradi e la carne era già cotta e però calda al punto giusto così come la verdura e quindi direi che come primo test il risultato è molto positivo. Nei prossimi giorni e prossime settimane procederò con altri test, andrò a cuocere altri alimenti e come sempre vi tengo aggiornati. Per il momento sono molto contento e vi saluto. A presto!